Uomini e donne, anticipazioni ultima registrazione 9 La scelta di Nicola e Carlo Grande attesa per l'ultima registrazione di Uomini e Donne di questo martedì 9 maggio 2023. Al centro dell'attenzione c'è stato il percorso della tronista Nicole che, dopo mesi di permanenza in studio, ha rivelato il nome del pretendente col quale ha deciso di iniziare una storia d'amore ed ha spiazzato tutti i presenti in studio. Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione della scelta di Nicola Uomini e Donne, rivelano che l'atronista ha deciso di uscire di scena dalla trasmissione con Carlo. È lui il corteggiatore che ha avuto la meglio nel cuore dell'atronista, al punto da convincerla a iniziare insieme un percorso fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi. Un verdetto del tutto inaspettato, dato che fino ad oggi, Nicole sembrava essere proiettata maggiormente verso Andrea, l'altro corteggiatore col quale aveva deciso di approfondire la conoscenza. E, invece, contrariamente ad ogni aspettativa, Nicola ha deciso di uscire dalla trasmissione con Carlo che, di fronte alla dichiarazione d'amore dell'atronista, ha risposto con un secco sì. Nasce così la nuova coppia di quest'anno e, con la scelta dell'atronista, terminano le registrazioni di UED di questa fortunatissima edizione del programma condotto da Maria De Filippi.